Bella ragazzi, impegnati costantemente da Diego e da mia sorella Oggi un nuovo video Cassione che c'è oggi e che è caldo Se non mi sbaglio in un video Avevo Quello di Diego Vi aveva annunciato che ci sarebbe stato un altro video con mia sorella L'1v1 a calcio Abbiamo fatto le porte con due sassi e due buste Niente, partiamo subito L'1v1 Però, questa è una serie I derby della Crio In ogni video ci sarà un 1v1 con uno della Crio Diciamo che mia sorella fa parte della Crio Vabbè, niente, passiamo subito alla partita È iniziata la partita Fla Fla Telli Fla Diego e Noemi Il primo possesso Non è di nessuno perché La palla Andrà buttata in mezzo Lo vediamo Dovebbe essere così la regola Sì, è così Riparte Il primo possesso è di Noemi Cerca un dribbling Diego gliela ruba Ed è subito 1-0 Attenzione Vuoi guardire Noemi Il destro Bellissimo Bellissima difesa di Diego con il tacco Arriva Ancora Diego lo supera Poi con Un super numero A gol 2-0 Ricordiamo che al 5-0 Di uno dei due giocatori Si andrà Al Secondo tempo Possessore di Noemi Diego sta aggiustando la porta La sta rendendo più piccola Perché è troppo grande Sarebbe troppo facile Noemi riparte Gli dico che mi deve dribblare Ma lei tira Solamente tira Aspetto un po' Perché non voglio subito Vincere 3-0 O 4-0 Non mi ricordo ora Però intanto Sono in vantaggio Ancora a possesso di Noemi La porta è È stata resa Ancora più piccola Tira ancora Noemi Diego la blocca La supera benissima Poi con un tacco No non è gol Non fa gol Non sembrava gol Sembrava gol Ma non lo è Andiamo ancora sul O 3-0 O 4-0 Prova il tiro Dico qua Poi Noemi Stanca Non molla Prova a tirare Ancora dico La blocca Il sinistro sbaglia Poi Noemi Non tira Non so perché Diego ancora Non tira Non tira Non tira Non tira Di testa Gol Che gol Penso che questo sia Il 4-0 Quindi sì Questo è il 4-0 Al prossimo gol Di Diego Andrà a fine primo tempo E inizio secondo Diego attenzione Il sinistro palo La salva sulla riga Noemi Poi Trova ancora il destro Sfira il palo Occasione qua Si rimane ancora sul 4-0 Poi Diego avanza un po' Stanco anche lui Trova il sinistro Un po' debole Noemi la blocca Il destro ancora La difesa Diego Poi Davanti alla porta La aspetta Non tira Non tira Poi il sinistro Ancora la meca la blocca Diego se ne va Col tacco Il sinistro Sbaglia Qua si vede palesemente Che l'ha fatto apposta Il sinistro di Noemi Sbaglia Diego rinvia fuori Possesso di Noemi Sbaglia Diego dribla Poi arriva il sinistro 5-0 Fine primo tempo Fine primo tempo 5-0 Si può iniziare col secondo Possesso di Diego Che può tentare un dribbling Non lo fa Noemi Noemi attenzione Deve cercare di rientrare in partita Al destro E' gol E' gol Primo gol per Noemi 5-1 Ora Diventa difficile solo per Noemi Diego è in netto vantaggio Possesso ancora per lei E' attenzione Arriva un cane qua Diego prova un gol Che non Non gli riesce bene Noemi stanca Non ha più idea Il destro Ancora fuori La palla dovrebbe essere di Diego Appunto si Attenzione Diego può segnare Ma aspetta Vuole giocare difficile Il tiro un po' debole Poi Noemi Noemi Può provare il destro Diego Diego Difende bene Difende bene Il pallone ancora per Noemi Attenzione Noemi Possesso suo Noemi non ha più idea Prova a driblarlo Fa un giro intorno alla palla Poi prova un tiro Pallone ancora di Diego Attenzione Diego Possesso ancora per lui Poi va il pallonetto Non gli riesce Il pallone ancora da dentro Può provare un Grandissimo gol Dal 6 a 1 Di tacco Si rimane Cioè no non si rimane Ora siamo sul 6 a 1 Nel Mancano 4 minuti Alla fine Nel secondo tempo Alla fine della partita Però ricordiamo che bisogna arrivare a 10 Per vincerla completamente Se no Se non si arriva a 10 Entro alla fine del tempo Ci dovrebbe andare Ai calci di rigore direttamente Così funzionano Le regole del derby Della crew Doppio passo di Diego Poi il tunnel Bellissimo Fa gol E fa gol 7 a 1 O 2 Mi sembra Non lo so Comunque in netto vantaggio Diego Siamo quasi allo scadere della partita Mancano 3 gol per Diego Noemi Noemi ha perso Noemi ha perso Nella partita Ma se Diego non riesce ad arrivare a 10 La partita si dovrà andare a rigore Noemi ancora Noemi la palla è entrata 7 a 2 Mi sembra che questo sia il 7 a 2 Sì il 7 a 2 Diego Ancora No Il pallone per Noemi Diego Perde palla Noemi ancora Noemi sul palo Diego Noemi ci va di fisico Un po' Un po' debole il tiro Poi Noemi Lo aspetta Il destro debole Diego Ancora il destro debole Fa posta per Non vincere facile C'è una Diego Che La supera in moto Però Aspetta perché Non vuole vincere facile Ed è 8 a 3 Mancano Due minuti E Deve cercare di fare Due gol Diego Per vincere la partita Un gol ogni minuto Siamo a posto Diego ancora Il tacco Può entrare Invece no Perché il pallone Si ferma sulla riga Noemi il tiro La blocca Diego Col tacco Se ne va Poi arriva Il No Sbaglio apposta Noemi ancora 3 gol Diego Ha 8 Noemi il destro E questo è il terzo Non il secondo Questo è il terzo Quindi 8 a 3 Un minuto E 15 secondi Per Fare due gol Diego Se no ci andrà I calci di rigore Un minuto Da adesso Tenti Sione Noemi attacca Noemi Di fisico ci va Ancora 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 Noemi Non vuole fargli fare Goll a Diego Noemi non lo supera Diego 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 Può fare il 9 a Si lo fa Palo gol 9 a 3 Manca un gol 30 secondi Se no calci di rigore Andiamo in destro Stop a Diego il dribbling Può chiuderla Può chiuderla di tacco E ragazzi Questo video finisce qua Ho vinto 10 a 3 È stata duro Cioè In verità Qualche cosa Gli ho fatto fare Vabbè Se no avrei vinto 10 a 0 Vabbè Non ho 10 a 1 Perché Non l'ho fatto apposto Niente Lei ora Sta bevendo Perché È molto sudata Niente Blaragats